buongiorno a tutti eccoci qui in questo nuovissimo video allora se non avete visto il video scorso dove ho già aperto un pacchettino di questi sticherello e abbiamo fatto insieme ciò che abbiamo fatto ve lo lascio a fine video infatti vi avevo detto lo scorso video che ne avrei acquistati altri perché mi sono piaciuto tantissimo e così ho fatto visto che comunque costano un euro a pacchetto ne ho approfittato allora sono il sticherello inventa e colora attacca e messaggia in ogni bustina trovi un mini book quattro o più sticherello quattro mascherine con forme diverse 6 veline fantasiose e coloratissime non sporca non servono forbici e non serve colla e sono della sbavam in realtà sarebbero dovute costare un euro e 99 e io l'ho pagato solo un euro questi sono dei esempi che si possono creare e adesso andiamo ad aprirli per vedere che cosa abbiamo trovato all'interno wow 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 allora tiriamo fuori tutto ok no vabbè oh mio dio allora c'è la petta questa stella sembra con la scia e la palette dei trucchi poi qui abbiamo la chiave inglese un delfino e un gattino poi abbiamo questo arcobaleno che è meraviglioso poi c'è questo fucsia questo olografico con tutti i cerchi così che fa anche illusione ottica questo arancione bellissimo questo verde e questo azzurro sono stupendi poi abbiamo le nostre come si chiamano le nostre come si chiamano le nostre come si chiamano le nostre mascherine che ovviamente vanno tolti tutti questi pezzettini qui e si possono usare per fare vediamo se c'è un esempio no comunque adesso ve lo mostro qua c'è un esempio no comunque c'è un esempio no comunque c'è un esempio no comunque c'è un esempio no allora qua c'è tutte le disdascalie di ogni cosa e qua c'è le istruzioni vedete qua fa vedere che uso la mascherina per far poi il cuore a quadratini all'interno e sono stupendi mi piacciono davvero tantissimo e poi è molto divertente anche realizzarli poi queste qui dovrebbero essere tipo l'angelina film se non sbaglio e apriamo questa per vedere che cosa abbiamo trovato all'interno di questa ok aspettate prendo un attimo la forbice le apro così le confezioni so che c'è l'apertura facilitata ma almeno riesco a mettere tutto all'interno senza perdere niente wow no vabbè vedo già cose meravigliose allora qui abbiamo una ciliegia e un cuore con all'interno scritto love poi qui abbiamo aiuto se è toccato ok qua abbiamo un pescerino e il martello abbiamo questa verde bellissima questa olografica guardate che sembra che girano i cerchi si muove tutto stupenda questa rosa tutta meravigliosa questa arcobaleno stupenda questa blu e questa oro e poi abbiamo sempre le nostre mascherine dove dobbiamo togliere tutti i pezzettini e utilizzarle e qui il nostro booklet e niente mamma mia sono stupendi veramente sono stupendi quindi e niente fatemi sapere se volete che vi faccio un video dove realizziamo qualche formina così insieme io mi diverto molto a farlo e veramente sono stupendi non veramente non so non c'è niente altro da dire mi piacciono tantissimo tutte queste veline che mettono all'interno con tutti questi effetti sono meravigliosi e quindi niente fatemi sapere voi che cosa ne pensate e spero che questo video vi sia piaciuto se è così lasciate tanti like iscrivetevi al mio canale per rimanere sempre aggiornati su tutti i miei video ovviamente io vi mando un bacio e un abbraccio e noi ci vediamo al prossimo video ciao